Uno dei temi che abbiamo affrontato qui alle giornate di Bertinoro è stato il tema di come fare territorio, di come costruire territorio. Uno dei temi di cui abbiamo parlato in questo contesto è oggi dell'importanza di costruire una nuova visione dei territori, delle aree interne, delle aree montane che vada un po' oltre la questione della sola patrimonializzazione, della sola valorizzazione con finalità turistiche ma che vada davvero a porre il punto sul tema della costruzione e dell'abitabilità di questi territori e anche di una nuova visione produttiva di questi territori. Noi pensiamo questi territori essenzialmente come rispetto a un tema di consumo, che può essere il consumo turistico, il consumo delle risorse, togliendo invece qualunque possibile valenza produttiva, mentre io credo, noi crediamo che oggi su questi territori ci sia una sorta di linea del fronte, di possibile frontiera dove la costruzione dell'abitabilità debba assolutamente andare in pari, intrecciarsi con una ricostruzione dei servizi, di prossimità, di welfare, ma anche di una nuova accezione produttiva del territorio che vada oltre un po' gli stereotipi del semplice bel borgo, del borgo abbellito e con tutti i suoi fiorellini, fatto essenzialmente con la finalità del consumo turistico. Questa è una dimensione importante su cui tante realtà oggi nel paese stanno lavorando, ci sono decine e decine oggi di realtà in questo paese, sulle montagne e le aree interne che stanno lavorando proprio in questa direzione della rigenerazione. Grazie per la visione!